Siracusa, Covid-19, storico traguardo di contagi zero, al meglio la delicata fase 2. Si chiude anzitempo la prima fase di pandemia a Siracusa con la guarigione virologica ieri sera degli ultimi due pazienti Covid. La provincia Redosea, prima fra le altre province siciliane, ha raggiunto il 6 giugno 2020 lo storico traguardo di quota zero. Ad oggi infatti su 251 case dall'inizio dell'epidemia si registrano 222 guarigioni e nessun paziente positivo. Da 13 giorni non ci sono più decessi e da 11 giorni non ci sono più contagi. La direzione dell'azienda esprime grande soddisfazione per l'importante risultato raggiunto, ma invita tutti i cittadini e gli operatori sanitari a non abbassare la guardia perché con l'apertura ai turisti potrebbero verificarsi nuovi casi e dunque occorre porre la massima attenzione nel mettere in opera tutte le misure che i governi nazionale e regionale hanno varato per gestire al meglio la delicata fase 2. Grazie. Grazie. Grazie.